Allora, tu sai che il premio Reverboli si può vincere una volta sola, lo scudetto o anche due? Sì, speriamo non ogni 74 anni, se no io non lo vincerò più. No, io intanto vorrei ringraziare per ricevere questo premio che mi onora, mi gratifica. Naturalmente sono io qua sul palco a ricevere questo premio, ma devo dire in rappresentanza al di là del club nel quale lavoro, la Reer Venezia, rappresentanza dei miei giocatori senza quali naturalmente questo premio non sarebbe stato possibile, che si sono sacrificati sempre e continuano a farlo anche quelli di quest'anno, e rappresentanza del mio staff perché io sono soltanto la punta di un iceberg, di un'equip di lavoro che rappresento nello staff tecnico, nello staff medico e quello fisico e quindi lo raccolgo io ma naturalmente lo condivido con loro, è un premio che mi onora e mi gratifica per tanto lavoro fatto non solo l'anno scorso, ma in tutti questi anni, si riceve una volta soltanto, proveremo anche quest'anno ad andare più avanti possibile sapendo che ci sono tantissime squadre che combattono per questo fantastico scudetto che come ho detto è una cosa che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Ecco appunto, solo un'ultimissima cosa, tu puoi fare tutti gli scongiuri del caso, io faccio la domanda, la regia arriva in finale anche quest'anno, tu che avversaria, prova a immaginare che avversaria potrebbe arrivare, se dici che si è in buon, è... Alessandro Viglia ha il saluto, attenzione che ci arriviamo Trento, Brescia, Reggio Emilia, a che tempo come rispondi eh? Ma, intanto io me lo che previsioni non ne faccia, perché visto come è andata la Coppa Italia direi che nel caso che stia zitto, intanto mettere la firma a tornare in finale scudetto perché come diceva un allenatore più saggio di me, la cosa più importante è arrivare in finale, poi se c'è un'altra squadra vuol dire che anche l'altra è stata brava ad arrivarci, per il resto va bene qualunque avversario, vuol dire che se l'è meritato quanto noi. Mi anticipo una cosa, il grande Oscar, che penso è stato uno dei più grandi stranieri, anche lui è stato sicuramente, diceva, non era la frase, non era la sua, ma lui le ripeteva le finali le perde, cioè bisogna farle le finali per perdere, chi le gioca, infatti le finali le perde solo chi le gioca. C'è una società, vai, vai, vai. Infatti delle volte si perde la misura delle cose perché si arriva all'illusione che sarebbe stato meglio non esserci pur di non perdere una finale, ecco direi che questa è l'apoteosi negativa dello sport, cioè io dico che comunque lo sport insegna a cadere, insegna a rialzarsi, l'importante è esserci, averne di finali da giocare, poi sarebbe bello vincerle sempre, magari ogni tanto, per noi una l'abbiamo vinta, però è sempre meglio esserci che non pensare che non essendoci stati sarebbe stato meglio. Il loro giuventino. Ora c'è una società che è la Palacanestro Reggiana che due finali le ha giocate, da Reggiana dico è andata così, però l'importante è averle giocate, devo dire anche contro pronostico, adesso lo possiamo dire, e questo insomma è un link per dire che per premiare Walter De Raffaele è il patron della Palacanestro Reggiana, nonché presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, Stefano Landi. Allora, venite ragazzi.